prima di collegare il vostro smartphone dovete inserire l'opportuno cavetto otg in questo caso è un cavetto usb c lo faccio quindi passare qua dietro lo attacco in questa porticina qui che è la porticina dove appunto colleghiamo il nostro smartphone ma anche la porticina dove carichiamo il nostro radiocomando mettiamo questo qui che poi può essere lasciato sempre in sede non è necessario toglierlo da questa situazione perché vedete che qui c'è una piccola canalina che incastra il cavetto piatto in questa maniera qui abbiamo il nostro cavo usb c nascosto qui è pronto ad accogliere il nostro smartphone altra operazione è quella di montare gli stick perché vedete che il radiocomando per trasportabilità non ha gli stick montati gli stick risiedono in questa parte qui li tiriamo quindi fuori e semplicemente li montiamo avvitandoli in questa maniera qui prendo quindi il mio smartphone lo inserisco in questo alloggiamento e li collego anche il cavetto usb c